presidente innanzitutto benvenuto accettate una sfida delicata ma penso anche stimolante di prendere l'albese che è una società storica e che merita sicuramente un assetto societario importante buongiorno a tutti grazie a tutti già in anticipo spero di far avvicinare più gente possibile ecco a livello di gli obiettivi che cosa su che basi state lavorando per diciamola far tornare grande la nuova albese adesso pochi giorni abbiamo già iniziato a parlare di un progetto a medio lungo termine fare un discorso giovanile un discorso di piedi per terra però anche ambizione non solo dire va bene salviamoci sì salviamoci però poi bisogna anche guardare al futuro con ambizione il diventa presidente nell'anno del centenario quindi una responsabilità ancora più grande mi è stato chiesto degli amici nell'albese di dargli una mano io ho accettato di dargli una mano e loro me la daranno a me per non lo facciamo né per me né per l'allenatore per la città per l'albese che innanzitutto più di tutti deve essere l'albese al primo posto si è uno dei problemi che ha sempre ravvisato il vecchio presidente franco rava è quello di non avere mai avuto un supporto importante dal dall'imprenditoria albese lei sente che c'è che qualcosa è cambiato in questo senso lo so io ho iniziato a parlare con attività locale anche importanti ho visto un discorso positivo adesso prima non posso dire di presidente rava come erano i rapporti però io per adesso in questi giorni che ho parlato con qualche imprenditore locale ho visto favorevole io prospettato il progetto e mi ha detto va bene una mano in qualche modo ve la diamo perfetto la ringrazio molto in bocca al lupo per la nuova avventura grazie arrivederci a tutti